buongiorno gente bentornati da queste parti oggi si parla di nuovo di outfit dopo tanto tempo mi sono ricordata che non vi ho più aggiornati sui miei preferiti del momento che cosa sto indossando, che tipo di abbinamenti sto facendo e quali sono i miei nuovi preferiti ci sono giusto un paio di cose vecchie e tutte le altre sono un po' più nuove cose che avete visto quando ho spacchettato ma che non vi ho mai fatto vedere insieme in un outfit tra cui anche questo cardigan che lancia questo desiderio di aggiornarvi un po' su tutto di cosa stiamo parlando esattamente? stiamo parlando del periodo natalizio stiamo parlando di dicembre, stiamo parlando dell'inverno quindi sono tutti outfit con un focus su questo particolare periodo in cui bisogna coprirsi per non morire di freddo ma bisogna anche avere un occhio di riguardo verso lo stile e verso i colori perché a parte oggi che è una giornata splendida, c'è un sole veramente wow la maggior parte degli altri giorni, soprattutto per chi come me vive vicino a Milano è caratterizzata perennemente da questo grigiume ovunque per cui sento che ci sia bisogno che facciamo uno sforzo noi con gli outfit e io lo faccio, ho notato anche la settimana scorsa quando ho lavorato 4 giorni su 5 fino alle 10 di sera e all'ennesimo giorno mi sono detta, venerdì questo per la precisione, mi sono detta devo fare qualcosa, devo darmi un tono, devo darmi un po' di grinta per affrontare questi ultimi giorni di lavoro e allora mi sono messa addosso l'outfit più wow che potevo inventarmi quel giorno il rossetto e sono andata in ufficio, ho portato un po' di allegria e quindi mi sono detta che dovrei aggiornare anche voi su tutto quanto appunto parlando di questo cardigan che l'ultimo acquisto è diventato subito il mio preferito vi dirò la verità, quando l'ho visto e l'ho provato in negozio sono stata un po' titubante non mi sono decisa subito ad acquistarlo però c'era qualcosa in lui che mi diceva no, non puoi lasciarmi qui e aveva ragione, quando l'ho indossato per proprio portarlo in giro, per portarlo fuori mi sono sentita veramente splendida la caratteristica principale che lo rende veramente bellissimo, spettacolare sono queste maniche giga e poi il fatto di essere proprio una coperta però una coperta stilosa non una coperta di quelle da nonna io comunque per il fatto che sono minuta sono un po' una ragazza mini come dicono alcune persone tendo a non comprare e a non indossare più cardigan lunghi perché mi sembra che non mi valorizzino particolarmente ma questo, quando l'ho provato e quando l'ho indossato mi sono resa conto che è veramente bellissimo e quindi basta trovare veramente il cardigan giusto e lo può indossare quasi chiunque detto ciò, siccome io sono pessima a ricordarmi i brand i nomi dei negozi e cose simili ricordatevi che i link li metto qua sotto nella descrizione quindi il link al negozio dove ho acquistato questo cardigan così come tutto quello che riesco a linkare lo troverete qua sotto e dove non riesco a trovare esattamente lo stesso pezzo vi linko una cosa molto simile diciamo che in passato non sono stata sempre precisa su questo aspetto ma lo sto diventando sempre di più per cui quando vedete una cosa nel video non state a scervellarvi o a cercare di capire di cosa sto parlando e dove trovarlo perché lo troverete sotto nella descrizione tornando al cardigan che è il mio pezzo preferito del momento ho notato che può essere indossato in tantissimi modi diversi può essere indossato un po' più dress down quindi per una giornata in ufficio tranquillamente ovviamente non in un ufficio di avvocati quello non è il nostro contesto però un ufficio un po' più creativo un po' più casual lo permette poi può essere indossato però anche come pezzo caldo sopra un vestito elegante perché appunto avendo questo taglio dritto sembra più una mantella e ti fa anche sentire un po' una principessa perché essendo così oversized è fluttuante, svolazzante però allo stesso tempo con dettagli interessanti permette appunto di essere molto versatile oggi l'ho abbinato a questo top fucsia tono su tono e a un paio di jeans però l'altro giorno in ufficio l'ho indossato con un paio di pantaloni fucsia anche se è di un tono un po' più rossiccio stanno bene comunque per cui questo pezzo già mi permette di creare tre barra quattro outfit diversi e può andare bene sia tono su tono quindi fucsia su fucsia oppure qualcosina di più dress down che richiami il beige che è l'altro colore in questo periodo poi ho riscoperto il mio amore per le mie buffalo non so se si usano ancora però sento che sono tornata ad amarle molto di più rispetto a quando le ho acquistate e le sto apprezzando davvero in questo momento per cui le sto sfruttando un po' di più perché mi sono resa conto che all'inizio quando le ho acquistate mi sembravano veramente altissime e esagerate ma adesso la mia percezione è cambiata ed è come se non le vedessi più così alte più così chunky le vedo proprio giuste per me e quindi le sto sfruttando davvero tantissimo un altro outfit che adoro tantissimo per le uscite serali è composto da questo vestitino è questo blazer perché si presta alla perfezione per essere indossato sia con tacchi per cui mi piace tantissimo questo outfit che ho scoperto così per puro caso perché io non sono una di quelle persone che fa proprio una cernita perfetta prima di andare a comprare qualcosa perché sennò mi limito allora vado un po' per ispirazione ho preso questo vestito ho detto sicuramente andrà bene con qualcosa e appunto va bene con questo blazer ma volendo va bene anche senza niente abbinato a questo cappotto azzurro che è stato uno degli acquisti più azzeccati di sempre è con un paio di tacchi blu ed è la perfezione in persona oppure in versione un pochino più dark con il blazer, il cappotto nero e gli stivali lunghi sopra il ginocchio ed è un altro tipo di mood perfetto per un aperitivo ma sta bene comunque e se devo pensare che questo è anche stato un acquisto un po' che pensavo azzardato perché non mi sembrava tanto nel mio stile è nello stile della persona che sto diventando quindi non deve essere per forza una cosa che la vecchia me avrebbe indossato ma è sempre di più qualche cosa che non conosco ancora e quindi è sempre una versione nuova di me e appunto anche questa versione nuova di me si sta muovendo più verso una versione più sexy un po' più provocante e con outfit un pochino più interessanti azzardo sono outfit che in passato non mi sarei mai immaginata di indossare invece oggi li indosso molto volentieri ora vi voglio far vedere un abbinamento che ho scoperto proprio poco prima di accendere la telecamera ed è questo in particolare questo maglioncino che è uno degli acquisti più recenti Zara ovviamente però è un maglioncino veramente stupendo è questo azzurro carta da zucchero e l'ho notato per puro caso perché il mio armadio non ve lo sto facendo vedere perché è messo così non ve lo sto facendo vedere per questa ragione perché sento che può disturbare un po' le persone che amano l'ordine e allora vi faccio vedere solo il pezzo un po' più ordinato comunque avendo le cose tutte arrotolate tra di loro ho notato questo abbinamento quindi questo maglione carta da zucchero con questi pantaloncini ecco qua così vedete il colore è un khaki beige e militare un misto bellissimo talmente versatile che può essere abbinato veramente un sacco di cose per cui va bene con il beige va bene col verde scuro ovviamente va bene con il marrone ma parliamo anche di un altro abbinamento che invece avevo già messo insieme ed è questo qua questo accostamento è veramente la cosa più bella che mi dà proprio soddisfazione a livello visivo quando lo indosso per cui questi pantaloncini che ormai sono nel mio armadio da non ricordo neanche più quanto tempo con un pezzo nuovo riesco a reinventarli e indossarli in modi sempre più originali un altro outfit che ho iniziato a indossare da poco è questo ed è questo accostamento tra texture di diversa natura abbiamo la seta una seta blu notte e la lana super morbida e super cozy quindi un accostamento per l'inverno davvero bellissimo anche questo outfit può essere perfetto sia per l'ufficio che per le uscite per anche il pranzo di Natale perché no? è davvero bellissimo e può essere indossato sia con un paio di stivali stivaletti più che stivali oppure con un paio di décolleté e anche qui torna in scena il cappotto azzurro che è davvero un amore insieme a questo cardigan penso che se la stanno battendo per il primo posto in classifica tra i miei preferiti da quando ho riscoperto poi il mio amore per il fucsia spesso gravito intorno a questo colore soprattutto quando ho bisogno di darmi un po' di buon umore e allora a volte l'ho indosso proprio sparato nell'occhio quindi metto anche il completo tutto fucsia altre volte invece faccio un po' un mix e di nuovo ho un altro mix preferito che è fatto da questo che è il mio terzo pezzo preferito dell'armadio è questo cardigan corto super chunky e lo indosso con questo top a collo alto metà collo in realtà e con i pantaloni fucsia questi qua del completo che sono tutti acquisti vecchi di almeno una stagione fa ma sono sempre super attuali infine abbiamo il mio outfit preferito per le uscite serali proprio il mio amore unico del momento è questo qua è composto da questi pantaloncini stile gonnellina e questi sono un acquisto vecchio più abbiamo questo top che è un acquisto abbastanza recente e questa camicia qua anche lei molto recente come acquisto fatto sta che questo top se ve lo ricordate l'ho acquistato quasi in maniera compulsiva nel senso che un giorno dovevo uscire e non mi piaceva l'outfit che avevo addosso e allora sono entrata da Zara e ho preso questo top e mi ci sono innamorata dopodiché quando ho fatto invece shopping con mia madre lei mi ha convinta a prendere questa camicia che io quando ho preso ho detto vabbè la prendo perché è molto interessante soprattutto per queste manichine poi è veramente bellissima è tipo cangiante sembra di indossare un vero d'oro solo che guardandola poi così ho detto e mo come ti devo indossare perché comunque indossare questa camicia qua trasparente con solo un top o un reggiseno sotto un po' più interessante mi faceva un po' stile troppo vecchio troppo 2010 e allora ho trovato questo modo un po' particolare di indossarlo e quindi cosa faccio indosso sotto il top sopra la camicia e poi i pantaloncini e viene un outfit davvero splendido lo sto amando tantissimo e lo sto anche sfruttando parecchio devo dire la verità la camicia non l'ho ancora indossata fuori però mi sembra di averla indossata tantissimo perché l'ho sfruttata tipo per diversi reel su instagram per questa ragione mi sembra di averla super indossata tantissime volte invece non è così per cui questo è un secondo outfit anzi un terzo outfit per i parti tra natale e capodanno forse sarà il mio outfit di capodanno potrebbe essere davvero perfetto ci penserò ad ogni modo questi sono i miei preferiti del momento sto giocando tantissimo con gli outfit per cui è molto probabile che io faccia un secondo video di questo tipo perché oggi vi ho fatto vedere proprio i miei preferiti gli highlights le chicche però appunto per il fatto che filmo un video di outfit ogni giorno mi sbizzarrisco davvero tanto e sono riuscita a trovare un sacco di abbinamenti insoliti e molto interessanti molto originali che mi stimolano appunto durante le giornate mi danno stimoli creativi spunti per affrontare al meglio le fatiche della giornata e quindi quel mood giusto che ti ci vuole per andare avanti tutta grintosa bene è tutto per oggi è tutto per questo video e mi sono appena resa conto che forse questo sarà l'ultimo video prima di Natale Natale è tra esattamente una settimana e non so se riuscirò a fare qualcosa prima perché mi aspetta una settimanella interessante ma comunque come sempre posso anche trovarmi molto stimolata e tirare fuori qualcosa dal cappello per cui stay tuned attivate il campanello così vi arriva la notifica se dovessi pubblicare qualcosa nel mentre io vi saluto se non ci vediamo vi auguro di passare un Natale veramente avvolto da cannella cacao e tante coccole e ci vediamo prestissimo in un nuovo video ma fino ad allora mi raccomando prendetevi cura di voi ciao ciao ciao